Il futurismo voleva esaltare il movimento, l'azione, la velocità e per fare questo faceva pitture e sculture che sono due tecniche che sono statiche. Allora io ho detto ma se io devo inventare delle forme, io le faccio al vero ritagliando un cartoncino, ritagliando qualche cosa e poi con un filo le appendo al soffitto e le lascio ruotare perché allora così ho veramente il movimento. E di fatti ho inventato allora le cosiddette macchine inutili, questo era il mio futurismo. De Pero fu uno dei miei maestri, balla soprattutto.